Allora, vedete, qui abbiamo due zucchine, una con il fiore sopra e un'altra senza, questo fiore è caduto purtroppo, e qui abbiamo degli steli anch'essi con il fiore. Allora, come riconoscere il fiore maschio e il fiore femmina? È molto semplice. Le zucchine che hanno il fiore sopra, il fiore sopra e il fiore femmina, mentre i fiori che nascono dagli steli sono i fiori maschi.